A quell'anno! Non mi piace, non mi piace! Niente, io sono inocente! Devo trovare un modo che vanno a me da qua. Scusa, ma a te c'è avuto uno stato di un ministro? Lo sento da tre anni. Quello modo pescita lo trova. Lo spazio vivo diventerà il più grande centro culturale di periferia della capitale. Certo che anche tu, Monica, in carcere... Tutto bene, amore? Dobbiamo chiamare uno bravo, ma molto bravo. Qualcuno del governo può fare qualche piccio per far merce prima. Si è un picciano traurto. Molto, ma molto più impicciato di prima. Poteva scrivere due mesi di servizio alternativo. E arrivederci. Era meglio la galera. Pensavi di passare da Re Bibbia a un hotel 5 stelle. Anzi se ci stanno professori. Sono tua. Che devo fare? Sistemiamo i libri. Il nome della rosa. Giardinaggio. L'hai già conosciuto? Don Davide. È un uomo Pio. È Pio. Molto Pio. Essere un po' più vicini a Dio significa avere almeno un amico povero. Allora io sto a posto. C'ho proprio la chiave del Regno di Cielo. Ti vedo un po'. Impicciato. Io non sono ministro. Le mani affondano nella carne. Guarda la coscia. C'è un filo di cellulite mortacci su. Abbiamo organizzato un pranzetto fuori. È un posto cinogarie. Si chiama Goccia di Morto. Finissimo! Io ti devo dire una cosa. Quelli sono i croccantini di croia. Cioè? Il cibo per cani. Ah. Ma fatti io le varie un po' forte. Te immagini. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!